Sono rimasto in silenzio in questi giorni per tutelare il giovane studente. Oggi però mi sento in dovere di fare chiarezza, vista le diverse ricostruzioni dei fatti che non corrispondono alla realtà. È stata questa la premessa del sindaco di Fano Massimo Seri, intervenuto oggi sul TSO, firmato per il 18enne che ha rifiutato di indossare la mascherina in classe. Innanzitutto, ha precisato Seri durante la conferenza stampa che Fano TV ha trasmesso in diretta, il ragazzo non è stato prelevato da scuola con forza, perché all'arrivo delle forze dell'ordine lo studente stava uscendo insieme a un medico e volontariamente ha deciso di recarsi al Santa Croce. I vigili urbani e il 118 sono arrivati a seguito della chiamata al 112 fatta dalla dirigenza del Polo 3. Inoltre, il provvedimento è stato firmato non per quello che è successo a scuola, ma per quanto accaduto al pronto soccorso, dove però rimangono diverse ombre. Siccome la prima narrazione è quella che ha scatenato tutto il mondo, cioè quella che è dell'emissione di un TSO legata al fatto che una persona non mettesse la mascherina, non corrisponde a verità. Ormai è conclamato, però nell'immaginario collettivo questo non emerge. Quando parliamo di sanità, ovviamente ci sono le competenze mediche, un sindaco ha un ruolo che deve tener conto di quelle che sono anche le indicazioni che arrivano, perché poi se non si tengono conto possono esserci anche risvolti diversi. Poi nessuno ha certezze in tasca. Io faccio anche un altro esempio. Se capita che degli ingegneri fanno delle relazioni che un ponte o una struttura o un edificio non è stabile, è chiaro che il sindaco emette un'ordinanza di sgombero o di vieto di accesso. È chiaro che il suo paragone è forse anche troppo forzato, però ecco, vanno distinte le cose, va fatta chiarezza, vanno dette le cose per quel che sono. Rimane una questione delicata e complessa, ha proseguito il primo cittadino che in questi giorni ha ricevuto attestati di vicinanza, ma anche attacchi e minacce. I dubbi sulla necessità del provvedimento derivano sia dal fatto che lo studente è stato dimesso prima dei sette giorni previsti per legge e senza essere sottoposto ad una terapia farmacologica, sia da quanto accaduto al pronto soccorso. Qui, infatti, il giovane ha dato un'escandescenza solo dopo aver saputo del TSO e non prima, quindi ci si chiede perché è stata firmata l'ordinanza. Su questo il sindaco ha precisato che alcuni dettagli non possono essere rivelati. Chi fa determinate accuse ovviamente le fa con una visione, però mancano anche altre voci che purtroppo non possono parlare, proprio perché hanno dati sensibili che spiegano anche determinate scelte, che devono aiutare anche ad un'analisi. Poi c'è il tempo per fare tutte le verifiche, se ci sono stati degli errori si verificheranno, però ecco, in questa fase, essendo questa situazione anche difficile, fare una narrazione precisa senza creare troppa confusione nella gente. Anche questa occasione era per mettere alcuni paletti, pur nella complessità, per fare più chiarezza.